Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare il client di Ilafax in Windows 7. Buona visione! Innanzitutto settiamo l'utente Ilafax. Per fare questo, logghiamoci a Webmin alla porta 9999. Inseriamo la login di root, quindi root password, scegliamo login e nel campo di ricerca inseriamo ssh2, ossia il terminale presente all'interno di Webmin. Inseriamo anche qui un'altra volta le credenziali di root, quindi posizioniamoci nella cartella script, assegniamo i permessi al fine di eseguire lo script e eseguiamo lo script stesso. Questo ci chiederà di inserire l'utente e la password che si vuole creare. Adesso procediamo all'installazione del client su Windows 7. Quindi accediamo al sito ilafax.org ufficiale e scarichiamo il client. Con questo client sarà possibile inviare un qualsiasi documento a mezzo fax senza doverlo stampare, scansionare, evitiamo tutti questi passaggi e ricevere soprattutto la notifica a mezzo mail. Adesso salviamo il file ed eseguiamolo. Definiamo la lingua di installazione. Andiamo avanti, accettiamo i termini di licenza, ancora avanti, abilitiamo la stampante virtuale, ancora avanti, installa. E quindi abbiamo installato così il software che è presente nei programmi di Windows. Passiamo adesso alla configurazione. Inseriamo l'indirizzo IP di asterisk, il nome utente e la password dell'utente precedentemente creato. Inseriamo il modem, lasciandolo vuoto si fa riferimento al modem libero. Impostiamo la lingua, la risoluzione e la dimensione della pagina. Adesso inviamo un fax, quindi facciamo un esempio pratico di come utilizzare questo software. Abbiamo un semplice documento Word, scegliamo stampa e tra le stampanti scegliamo la stampante virtuale precedentemente creata. Quindi apparirà la maschera di la fax, inseriamo il numero di fax e scegliamo invia. In Avantfax è possibile vedere come il fax viene inviato. Come dicevo prima, in Zimbra riceveremo la notifica di corretto invio fax. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.